finisce 1 a 1 tra brescia e palermo peccato per il rosa nero perché potevano cogliere una ottima occasione di portare punti da brescia lì dove il palermo secondo me ha fatto una buona partita si è imposto sul brescia che sembrava quasi spaventato da questi rosa nero che hanno fatto una buona partita anche se sono andati svantaggio hanno recuperato dopo praticamente pochissimi secondi perché è arrivato dopo il gol di galazzi al cinquantesimo il secondo gol consecutivo di seger che sta cominciando a essere davvero un fattore determinante nel rosa nero di eugenio corini che portano però da brescia un solo punto che sembra essere un buon punto se pensiamo al palermo che va fuori casa e che comunque è sempre tosta portare punti fuori casa però era una bella occasione questa il palermo poteva effettivamente avvicinarsi e non di poco alla zona calda della classifica ed invece si ferma a 24 punti questo punto serve poco al brescia che va a 25 ma serve poco anche al palermo che rimane a 24 quindi rimane a metà in questa classifica che la vede un po' vicino alla zona retrocessione un po' vicina a quella della promozione peccato perché ripeto poteva avvicinarsi e poteva raggiungere il pisa a 26 punti il pisa è decimo con due punti poteva passare dall'undicesima alla alla quinta sesta post postazione in in classifica un vero peccato per questo palermo di eugenio corini che stento un po' serve secondo me una serie di risultati utili consecutivi c'è uno di quei famosi filotti che possono farti dire ok effettivamente il palermo può credere alla serie a può effettivamente essere una squadra da da serie a staremo a vedere le prossime settimane io credo comunque che nelle prossime settimane un fattore davvero determinante può essere il buon il buon jacopo segre secondo gol consecutivo è un fattore i suoi inserimenti cominciano a essere davvero determinanti per il rosa nero quando manca brunori segre è un uomo che può essere davvero importante per questo palermo che purtroppo non porta da brescia tre punti ne porta uno solo brescia palermo finisce 1 a 1